ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video allora prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale le solite cose cliccare mi piace e se volete lasciare un grazie o abbonarvi una scelta molto gradita niente allora siamo nella mod 27 e come vedete qui abbiamo la voce doni è stato abbiamo la possibilità di riaddestrare i doni o l'ho già fatto e di conseguenza sono stati reworkati doni ok quindi cosa vuol dire adesso qui tutto zero no per cd se leggiamo la tabella qui a sinistra ci dice per avere un grado di questi doni maestro dobbiamo spendere 10 doni ok quindi cosa facciamo io per dire in questo momento sono ladro quindi metto i dieci doni tipo 1 2 3 4 5 sul colpo critico poi lo metto su danno resistenza danno contro i cultisti e come vedete si apre mi da disponibile questa schermata sopra dei doni maestro quindi vado a mettere il mio primo punto d'uno ok mi dice che ne posso mettere solo uno a questo punto metto altri punti d'uno tipo severità ok vediamo se mi fa mettere un altro punto no però vedete che lo posso mettere già altri punti li posso mettere no a seconda dei gradi che ci piace li possiamo mettere dove ci pare anche in tutti ok ma allora adesso faccia nulla ovviamente e quindi è così comunque ecco qui come questo è un modo per ottenere più punti maestro come ottenere maggiori punti maestro e niente spero che questo video vi sia piaciuto e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e ci sentiamo in un prossimo video ciao